Vincenzo Genovese Io collaboravo con un mio amico franco tunisino, si chiama Omar Rad, viveva anche lui qui in Toscana e poi per esigenze personali è andato via e quindi avevo bisogno di sostituire questa voce in un progetto che avevo in trio allora. Omar è molto molto bravo e avevo bisogno di trovare qualcuno altrettanto bravo per cui ho fatto una selezione lunga e poi tramite un'inserzione su internet è arrivata Nadine. Quindi la vostra collaborazione cosa consiste, com'è nata anche a livello di rapporti umani, anche musicale? Ma sì, è nata da questa inserzione e si è aperto un mondo per me perché calcola che io prima, precedentemente a questa data, a questo momento avevo un po' abbandonato il mondo della musica, mi ero un pochino ritirata verso altri progetti. Quindi l'idea di ricominciare dal palco, fra l'altro molto particolare che è quello del Gambrinus di Montecatini che è un posto che ha della storia veramente incredibile. È stato per me un bel inizio, un bel rilancio, ho avuto modo di collaborare subito con personaggi veramente illustri. Cioè, è strano dirlo, però il mio primo sassofinista in assoluto che ho avuto sul palco è stato proprio Dario Cecchini. È proprio una cosa in sogno per me. La collaborazione è iniziata tre anni fa, più o meno, due o tre anni fa, forse anche un po' di più perché io suonavo con Vincenzo, ci eravamo conosciuti e lui aveva già questo piccolo gruppo con cantante, sezione ritmica e sassofono, dove faceva un po' di arrangiamenti per questa piccola formazione che prendevano brani di musica più o meno pop, più o meno conosciuta e gli stravolgeva un po' ritmicamente, anche un po' armonicamente, inseriva degli spazi solistici, dando un sound un po' diverso a questi pezzi. Poi a Vincenzo piaceva allargare questo organico e quindi è venuta poi la VG Big Bang. Io penso che tu c'eri dapprima di me. Sì, mi è iniziato che stavamo facendo il tour di Anaroxa, poi insieme a Francesco e da quella cosa lì poi lui mi ha invitato a fare una serata con Vincenzo e da lì è scoccato l'amore. Alla faccia. Io invece sono arrivato un po' dopo, penso un anno, un anno e mezzo dopo, ma in realtà è stato Vincenzo a chiamarmi. Prima c'era un chitarrista più bravo. Esatto, poi sono arrivato io per sciopare un po' tutto. E questo risale, qual è? 2012, sì. Dunque, i progetti della Big Bang, questo progetto. Noi al momento stiamo registrando, come vedete, il nostro primo disco e quindi sono degli arrangiamenti di brani internazionali, ma anche abbiamo dei brani inediti, originali, per cui il progetto futuro è quello di avere una produzione nostra totalmente di brani inediti. Quindi poi speriamo di riuscire ad avere degli ingaggi in feste con le situazioni importanti. Con Vincenzo ci conosciamo quando eravamo piccoli, penso, perché le prime esperienze musicali nei matrimoni, quindi io avevo, mi sembra, 16 anni, e lui mi sembra 15, quindi è dato tantissimo tempo. Mentre l'esperienza con l'orchestra è partita a ottobre, con questo concerto che è stato svolto a Montecatini, è lì che, diciamo, c'è stato di un matrimonio con questa bellissima orchestra. Ma gli arrangiamenti spaziano su vari generi, insomma vengono ripescati in generi grandi anche della dance, sia passata, abbastanza del presente, riarrangiati appunto in chiave, in una chiave adatta per un organico strumentale tipo Big Band. Alla Big Band, secondo me il punto di forza è il fatto che è una Big Band che fondamentalmente fa pop funk. Grazie. E non fa jazz, swing, nel senso che, anche se il background musicale comune è quello, però diciamo che di quella tipologia d'orchestra in Toscana ce ne sono già abbastanza. Mentre il sound che abbiamo noi, soprattutto appunto nella sezione ritmica, riesce ad essere orientato verso il pop funk in maniera più determinata. E secondo me questa è una cosa da buona. Ma il mio punto forte, sicuramente io sono cresciuto con il soul, con il funk, quindi, sì, vengo anche dal mondo latino perché sembra che sono un percussionista, però sono cresciuto con il funk e il soul e questa, proprio orchestra, mi sento bene, sai con un vestito che ti metti e che ti sta bene, ecco, questo è proprio il posto mio giusto. Il pubblico della Big Band, che pubblico è? È un pubblico molto vario in realtà perché la musica che trattiamo è sicuramente vasta. Passiamo dal pop al soul a tutto quello che, diciamo... Black music. Infatti è black music, quindi molto coinvolgente. Solitamente noi abbiamo sempre una grande risposta per qualsiasi tipo di pubblico. Siamo che con una proposta diversa, sì, siamo sicuramente tra i primi a proporre così un progetto più verso il funk, riprendendo un po' appunto queste sonorità anche vecchie degli anni 70, 60, quando è un sgrato, ci piace un po' questa cosa del soul. Per cui, insomma, saremo ben nascetti, penso, per gli amanti di quel tipo di sound. Quindi, per cui, speriamo che diventino sempre con noi. Quindi è per una sorta di elite questo progetto? Ma in realtà, quando abbiamo sonato nelle piazze, poi la gente ha gradito. Quindi direi che a parole sembra una cosa più complicata di quello che poi è in realtà. L'impatto è abbastanza popolare. Purtroppo in Toscana, ma in Italia in generale non ci sono gli spazi per poter mettere in pratica e suonare. Per cui, io credo che questo gruppo abbia le potenzialità per fare tante belle cose. Speriamo che ci sia un spazio per poterli fare. Il punto forte, sicuramente c'è questa magia che si è creata, perché comunque sono tutti grandissimi professionisti. Il punto forte è sicuramente Vincenzo, perché ha scritto degli arrangiamenti con una cura, ma proprio pensando anche ai modicisti che suonavano un po' i suoi arrangiamenti. Penso che questa cosa, Vincenzo, si sente anche dalle mie parti. Le parti che lui ha scritto a me sono parti che li trovo bene scritti e anche ben arrangiati per quanto riguarda la ritmina e le percussioni. Quindi lui ha puntato anche sul singolo musicista. Dal punto di vista del genere musicale, vari assortimenti, vari componenti, come trovi il modo di far incastrare tutto alla perfezione? Ma alla perfezione ci proviamo, non lo so. Diciamo che mi sono circondato di amici prima e musicisti straordinari. Credo che sia questa la forza della Big Band. La Big Band è nata prima da rapporti umani, dopodiché si sono trasformati inevitabilmente i rapporti lavorativi, per cui ho selezionato tra i migliori musicisti che ci sono in Toscana. Il nostro chitarrista, che è il più simpatico che abbiamo in Big Band, è uno dei miei collaboratori tra virgolette storici, fa parte della ritmica. Quando gli ho detto che avevo l'idea di mettere su questa Big Band, lui mi ha detto che non ce la farai mai. e quindi è stato di grande stimolo e ce l'abbiamo fatta. Però è anche vero che mi sono circondato di musicisti straordinari in ogni sezione, per cui dalla parte ritmica ai fiati, alle voci. Quindi è stata abbastanza facile. La mia parte è quella di arrangiare e poi loro fanno il resto. Siamo gratificati, mi piace questa parola. Cioè, la domanda che... È molto... Sono difficili queste domande. Sono difficili, l'hai studiato. È più facile suonare. No, ci divertiamo. Ci divertiamo. Tanto la cosa fondamentale è quella. Ci divertiamo, quindi vuol dire che direi di sì, siamo gratificati. Riusciamo a suonare un po' come ci viene, che penso sia la cosa migliore, senza dover smussare troppo le nostre caratteristiche. Ovviamente lui si fida molto dei suoi musicisti e quindi dà anche, ovviamente, spazio alla propria creatività, comunque sempre rimanendo su alcuni punti di riferimento che lui ha scritto. No, è fondamentale la cosa che nasce con un progetto azzardato, difficile da realizzare. Per cui se abbiamo un retto nel tempo, che non è tantissimo, ma per noi è tanto. Però è qualche anno. È qualche anno e siamo qui, abbiamo... Questo è il primo traguardo perché c'è stato un grande impegno, ma anche una grande voglia di stare insieme, di fare musica insieme. Perché ci piace essere così fra di noi, insomma, siamo quasi diventati, non è per fare il solito discorso, però siamo una piccola famiglia, siamo insieme, siamo quelli che vogliamo che... Insomma, c'è una scelta comunque anche di carattere musicale, ma anche personale, per cui siamo così felici insieme. Sì, 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 sì. Ma guarda, io penso che non solo Toscano, io penso anche a livello internazionale perché non penso che ci siano orchestre in Italia, ce ne stanno ovviamente, però questa è un'orchestra che si può sviluppare in vari stili e comunque al servizio di vari anche cantanti, di vari anche generi. Penso oltre la Toscana, penso anche oltre l'Italia, che io ho sempre questo punto di andare sempre oltre e secondo me questa... c'ha buone prospettive anche per l'estero. Sì, non sono musicale, ma umano, si sta bene, siamo tutti amici. Poi eravamo amici da tanto. La nostra è la sezione bilanciata. La sezione bilanciata da 30 anni. Diciamo se vogliamo dire anche popolare, ma anche questa parola colto, diciamo un po' che non mi piace tantissimo, però anche per un pubblico colto. Tu sei la voce, quindi tantissimi musicisti, pochi cantanti. Come gestisci questa situazione? Non è facile, però quando si parla di professionalità e comunque di amicizia e affiatamento diventa tutto più semplice, perché comunque sia prima ancora del lavoro c'è una buona coesione, c'è sempre una buona aria positiva da respirare e questo fa sì che le giornate e il tempo dedicato al lavoro sono sempre molto leggere e stimolanti. Tu trovi spazio per la tua creatività personale a livello musicale all'interno della band? Assolutamente sì. Questo è un progetto che appunto forse nasce un pochino più plasmato sul mio background, innanzitutto perché appunto nasce dalla nostra esperienza e poi ho un modo proprio di fare quello che mi piace, che non è molto semplice al giorno d'oggi, insomma, quindi devo dire che per me è molto molto bello essere qua. Allora grazie. Grazie Alessia. Grazie. Grazie. Grazie.